Ringrazio tutti i campioni che sono intervenuti a questa nuova edizione, quindi ringrazio Roberto Gallini, ringrazio Roberto Battisti, ringrazio Pannoni, ringrazio i tuoi momenti che ho avuto a tutti, e tutti i tuoi amici del Paolo Bianchi. Lo ricordo a memoria dei miei tutti, comunque un ringraziamento grande e grosso a tutti quanti, vi do notamento alla rivoluzione 2015, se avrete la volta e la portate, di ritrovare il ritrovato. Bene, non so se la sigaretta è finita, il ritrovato è finito, 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 il ritrovato è finito. Il ritrovato è finito, 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 il ritrovato è finito Il prossimo anno facciamo una corsa prima di andare in media, guardate quando viene fatta la manifestazione, la guardate e poi andate in media, per esempio. Il prossimo anno facciamo una corsa prima di andare in media. Il prossimo anno facciamo una corsa prima di andare in media.